E' un'amica e questo sarebbe stato un po' per da no continuare a parlare di perplei e quindi la beve di efton e di tutto so che prendere e questo si scopone e molto coraggio io mi sento veramente in guai eh secondo me io veramente non ho niente e infatti sono venuto tutto in giro perché non vogliono fare ciascuno di tutte le vere però sotto i vestiti c'è celeste bianco e comunque i ruministi sono da grande laziali sono da grande tutte le calce sono da grande cioè dipende di dove sta la tua guerra premerà uno dei nostri sponsor Mauro Scalanca Mauro Scalanca dove è? qui, qui, qui giustamente dai datemi abbracciate non resta per l'occasione non esageriamo basta che tu tieni la sciarpa mettila e poi vi fate se mi mette quello e non do una più pronnese lei datevi un abbraccio no, no, no scusi, guarda la camicia però bianco a ziero ma è sbagliato Mauro, tu hai ovviamente c'hai ronciglione però mezza ronciglione mezza ronciglione romanista mezza ronciglione romanista siamo qui proprio oggi a dare un contributo a sentire prima del derby di premiare proprio una ragazza naziana sì, è un'americana nella strada ma soprattutto a ronciglione lui ha una tabbaccheria che prende tutto a ronciglione è grandissimo fa batteria, cartuleria al centro di ronciglione a piazza della nave bravo a piazza della nave bravissimo quindi si conosce guardate lui ronciglione ronciglione quindi allora un cittadino nostro andiamo nella piazza principale nella bancheria edicola adesso vendiamo facciamo varie attività vari servizi tra i quali vari volentini postali adesso per il ronciglione si va a creare il formato e il canone rai quindi approfittate approfittate beh io posso dire che io sono americana e sono l'anziale e perfetta grazie Demetra Demetra che sei Demetra Demetra di qua prima Demetra grazie Demetra guardateci Demetra Demetra pesanti che è un grande grande cuore grazie a Palazzo grazie per questo premio grazie a te grazie a te anche io ringrazio Fabrizio per avervi invitato per la seconda mia edizione la prima come sponsor e sarò presente anche la nonna edizione ringrazio ok grazie Mauro grazie grazie a voi attenzione al filo prego